gentili telespettatori buona giornata il più classico dei classici manifestazioni dei no green pass cioè di quelli che reputano una mancanza di libertà l'utilizzo di quel certificato che attesta che hai fatto il tampone o il vaccino per poter andare in alcune attività e dal 15 di ottobre a lavorare beh diciamo che le posizioni dei partiti su questo green pass quali sono state la sinistra è favorevole draghi favorevole forza italia favorevole la lega ha fatto il giochino sì favorevoli no non favorevoli tampone da cancellare gratuito tampone a pagamento insomma tra i nostri forse quello che conta è i fatti e nei fatti la lega ha votato con il governo per il sì al green pass su ordine di salvini i ministri hanno approvato il green pass poi ci sono stati in parlamento quelli che si sono non si sono presentati della lega eccetera eccetera però la linea di salvini la linea politica della lega era quella sì al green pass ecco non raccontiamoci storie che la lega è contro il green pass perché non è vero in parlamento su ordine di salvini hanno votato insieme a tutti gli altri l'unanimità per il sì al green pass l'unico partito che non è mai stato d'accordo su questo green pass è fratelli d'italia fratelli d'italia che cosa ha detto fratelli d'italia dice questo strumento politico è fatto male perché se io posso andare ad assembrarmi al bancone del bar posso andare ad assembrarmi su un autobus posso assembrarmi in metropolitana sui treni pendolari e poi non posso sedermi al ristorante che non c'è manco nessuno capite che è una misura un po' curiosa ecco questa è la posizione di giorgia meloni non sappiamo poi realmente se il green pass fosse stato esteso a tutti i mezzi pubblici indistintamente quale sarebbe stata poi la posizione di giorgia meloni non la sappiamo con certezza perché lei si è fermata a dire questo green pass così come fatto non serve a niente che cosa è successo che giorgia meloni salvini tutti i partiti hanno preso le distanze dalle manifestazioni di ieri a roma e milano quelle sul no green pass ma al pd non sembrava vero una notizia del genere perché letta è galvanizzato dalle elezioni perché è convinto di aver vinto attenzione sono tutti convinti di aver vinto è tutti salvini ha vinto meloni ha vinto berlusconi ha vinto letta ha vinto conte ha vinto tutti c'è qualcuno che ha perso tutti anche calenda ha vinto a roma hanno vinto tutti ma il fatto è che letta ci crede realmente di aver vinto queste elezioni comunali nonostante il suo partito sia arretrato non arretrato come partito ma arretrato come percentuali non è cresciuto è arretrato l'unico partito che è cresciuto è stato quello di giorgia meloni che ha raddoppiato i suoi elettori gli altri gli altri partiti guardate me l'ero scritto da qualche parte me l'ero scritto da qualche parte ma chissà ma chissà in quale pagina qua l'avevo messo comunque che cosa succede che il pd che crede di aver vinto queste elezioni letta esaltatissimo esaltatissimo dice cavolina questa è proprio l'occasione la ciliegina per dare la colpa a lega fratelli d'italia per le proteste di piazza e loro salvini dice che contro poi vabbè vota di sì ma facciamo finta che sia contro perché poi questo è il problema quando c'è un salvini che dice sì no forse ognuno sceglie quello che gli fa comodo in questo caso al segretario del pd gli ha fatto comodo scegliere il salvini di lotta che dice no green pass non sapendo che il salvini di lotta non esiste è un ologramma c'è un solo salvini lui si sdoppia salvini di lotta e di governo ma quello di lotta non esiste un ologramma c'è solo quello di governo che decide da ordini a i ministri deputati però letta si affida al salvini di lotta e dice è contro il green pass la meloni è contro il green pass proteste di piazza e colpa loro quindi il pd ha cercato di addossare la colpa delle manifestazioni di piazza contro questi due partiti e dice così sentite questa non è la libertà che tanto invocano lega virgola fratelli d'italia e i loro presidenti di regione prendano le distanze dai no green pass e dai no vax e i vertici dei due partiti di destra la smettano di alimentare lo scontro ideologico su vaccini e green pass in realtà non c'è uno c'è lo scontro ideologico arriva direttamente dalle persone la gran parte degli italiani la maggioranza degli italiani è ha fatto il suo vaccino se c'è il suo green pass però c'è una piccola parte degli italiani molto aggressiva abbiamo visto che non riesci a convincerla perché ogni discorso che tu gli fai c'è sempre un ma c'è sempre un però anzi ti aggrediscono pure dicendo che tu non capisci niente com'è possibile che un intelligente come te non riesca capire non riesca a vedere quello che vedono loro allora non c'è lega e fratelli d'italia che alimentano uno scontro ideologico ci sono dei gruppi sono delle questi no green pass che si sono uniti e sono diverse migliaia di persone non riesce a convincerle non riesce a convincerle e pertanto non c'entra niente né lega né fratelli d'italia anche perché se voi sentite questi no green pass ce l'hanno pure con salvini e meloni salvini perché dicono che l'ha votato in parlamento e meloni perché dicono che si è alzata e non ha votato non lo so comunque il no green pass ce l'ha anche con meloni mentre i politici cercano di additare salvini e meloni come come i fiancheggiatori di queste di queste proteste poi arriva laura boldrini che anche lei rincara la dose e dice che alcuni gruppi vanno sciolti come ad esempio forza nuova secondo laura boldrini andrebbe sciolto ma non è un partito politico non so se è una se si sono raggruppati in un'associazione non ho idea esattamente forza nuova come sia inquadrata se realmente puoi sciogliere o non puoi sciogliere perché non c'è niente di legato nel senso se puoi sciogliere un qualcosa vuol dire che c'è un qualcosa non so se quel forza nuova è un qualcosa o è solo un gruppo di persone unite senza però avere niente di scritto dal notaio non lo so bisognerebbe bisognerebbe avere qualche informazione al riguardo comunque io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata